porto buone nuove signori il computer è arrivato da qua dietro di me devo ancora metterci mano per vedere se funziona tutto eccetera eccetera ma prima il dovere e poi la rottura di palla perché star lì a sistemare non è che sia un piacere quindi si riparte con il nostro orun abbreviato per gli amici orun per il nostro orun pronti a intraprendere il viaggio per la nostra incoronazione eccolo qua abbiamo anche non riesco a capire viaggiamo fuori di casa nostra fino alla capanna immagino dell'ife che però è stato sbolognato qua ma l'ufficio ce l'ha ancora il eife chiaramente e poi riprenderemo anche con la pugnazione no questa però per ora non posso perché ci avevo già tentato a lui ma pian piano che andiamo avanti ci schiliamo nell'arte del sotterfugio vedete che un paio di pugnalate ce le buttiamo dentro anche all'altro fratellino tra l'altro possiamo ricordare cosa che fa prowess è bellissimo hostile scheme resistere 25 ok ok mi interessa prima andare però di là e quindi questo è idee per il futuro penso che un modo per superare il problema la carezza di soldi che c'è tanaglia sia quello di raidare i nostri vicini ma raidare questi quattro stronzi a momento non so se è ancora ideale perché noi abbiamo 1500 truppe e gli fe possiamo mangiarcelo un pezzettino un altro pezzettino e siamo contenti poi questo possiamo raidarlo sempre che non si sia già occupato però io bisogna vedere dopo che abbiamo conquistato questo qua e dopo che è morto il tizio vabbè ero 35 anni questo quant'è che mora non lo so e poi ho questa idea no ma noi quindi dobbiamo proteggerlo se lui perde anche questa tile cosa succede io lo vorrei per la scienza per capire però non voglio perdere una meccanica quindi tentiamo di tenerlo tra l'altro guarda che adesso gli sto pur simpatico potrei anche dichiarargli guerra non si può vassalizzare non grant vassal offer vedremo vedremo cosa succede letteralmente 0,2 secondi dopo che ho fatto play spono a questo evento me ne torno a casa perché come dicevo già prima ho solo fatto due passi fuori dall'uscio sono entrato nell'ufficio dell'IF e poi sono tornato indietro quindi in verità è stata consistente sotto questa cosa dopo essere andato dall'ONI che mi ha ricevuto formalmente il mio regalo mi ha dato in cambio la corona of odudua odu odudua non riuscirò mai a pronunciarlo sono tornato e la vita è più bella adesso va bene dai facciamo così mi sono legittimizzato eccetera eccetera se volete quando andate qua sopra su bidet ground vi dà anche un bel po' di lore per i cazzi vostri però noi premiamo solo ora posso riprendere la mia occupazione gran viaggio o follia cara amica stringimi nel tuo braccio quanto parliamo impazzendo piano piano da qualche parte nei meandri più oscuri del mio subconscio so di essere in un sogno ma comunque non mi ricordo chi sono veramente la stanza in cui mi trovo mi disorienta a un mobiglio pregiato con quadri e decorazioni sgargianti e ridicoli le mura sono spoglie di decorazioni ma comunque di un colore pastello cremoso e confortante è chiaro che questa non è una normale casa edu mentre vedo uno specchio qui vicino forse mi darà un indizio su cosa sta succedendo e mi avvicino allo specchio chi sono io chi sono io tu guarda nell'abisso e l'abisso guarderà in te guardo nello specchio e vedo un bel ragazzo con occhi penetranti ed uno sguardo cupo sto vestendo dei pantaloni blu e una maglietta aderente non si può negare che questi vestiti mi fanno proprio una bella linea ma poco dopo prima che possa realizzarlo il logo dei sogni cambia al mio fianco ora c'è un'adorabile ragazza alla quale mi sento connesso ho capito ma dove stiamo andando a parare qua cos'è stato chiedo in una maniera più gruffly di quella che intendevo non so che voglio dire gruffly ma va bene stai bene lei mi chiede gentilmente c'è qualcosa che non va non è il tuo lavoro preoccuparti per me starò bene le rispondo non sento dolore per quello che è successo almeno non più e poi io profondamente sospiro maniare che seffi che siamo finiti nel mondo delle favole camminiamo fianco a fianco lungo il fiume fino ad arrivare ad una piccola città le costruzioni così come i vestiti che io e lei indossiamo non mi sono familiari queste sono grandi ed altre strutture di vetro e pietra sono andate nel futuro non so comunque poi la mia attenzione torna sulla ragazza siamo amici da tanti anni sin da quando eravamo bambini eppure continuo a considerare una stupida ragazzetta fastidiosa e poi cos'è questa tensione che sento nell'aria eppure quando lei sorride vabbè insomma vado in brodo di giugiole è come se fosse mia sorella eppure voglio qualcosa di più qualcosa di differente sweet o malabama ragazzi no beh ha detto le prendo la mano timidamente la prendo le confesso quello che ho sempre sentito gli dico cose brutte per nascondere i miei veri pensieri oppure lei mi prende la mano vabbè alla fine non lo so non ho un dado non posso tirare un d4 allora vediamo non ho un dado qua purtroppo non ho un dado questa gomma della statler fungerà da dado d4 se cade questa è uno 1 2 3 4 ok vediamo 1 mi sono appena accorto porca di vacca mi sono appena accorto che da due lati ha la stessa figura allora faccio così e ritiro la gomma 1 di nuovo ok destino prendo la sua mano lei sta per dire qualcosa io trattengo il respiro e aspetto di sentire le parole che stanno per uscirle dalla bocca parole che cambieranno la nostra vita per sempre e lei finalmente piange per la prima volta dopo anni un pianto di felicità e dice dice un cazzo perché poi io mi sveglio passano alcuni momenti e mi chiedo preoccupato dove sia la ragazza poi però mi riprendo veramente e realizzo che io non sono quel bel ragazzo che ho visto nello specchio io sono orun un pazzo infanticida con una moglie psicopatica la verità ci vogliono diversi minuti per cominciare nuovamente a distinguere tra sogno e realtà o almeno quello che io penso sia la realtà ma cacane che tristezza che tristezza e pesantezza non sappiamo se è follia o solo un sogno un sogno di follia perdiamo stress e ci arriva questo hai sognato di una storia d'amore innocente che ci dà più diplomacy più attraction e più seduce skin power però la verità è che la nostra vita è una merda ragazzi questa è la dura verità questo non è un po' un po' riflesso di tutte le nostre vite ragazzi non lo so buona fortuna vorrei costruire qualcosina ma purtroppo difettiamo di prestigio non che nei soldi ci navighiamo però alla fine fine ne guadagniamo praticamente il doppio quindi perché non venerare i nostri antenati che vedo che ci danno anche pietà prestigio e renew quindi voglio dimostrare il mio amore e rispetto per i miei antenati e rinforzare i legami che ci legano con la mia famiglia insomma quindi dovrei onorare e venerarli in una lunga cerimonia fatta nelle tradizioni edo parte quindi una cerimonia per venerare gli antenati in ife guarda caso guadagnerai un random amount di questo quello e quell'altro fino a un massimo di tot ah ok vabbè senza stare qua a leggere troppo le situe partiamo spiega 50 tanto non potrei spenderli in nient'altro e vediamo un pochino quanto cazzo c'è sempre da tradurre vacca cane vabbè in soldoni oggi ci troviamo ci raccogliamo per porgere rispetto ai nostri antenati e fare la cerimonia seguendo la cerimonia ci raccogliamo con la famiglia mangiamo spendiamo del tempo assieme riaffermiamo i nostri cuori alla memoria dei nostri antenati che non possiamo dimenticare infatti li abbiamo tutti iscritti per quello che è lunga ci saranno centinaia di persone che dobbiamo ricordare per fare del nostro meglio per onorare la nostra legacy e i nostri atti onorevoli e giusti insomma tante pippe mentali 56 pietà, 118 prestigio e tutti i membri della famiglia che sono alla cerimonia guadagnano un po' di tutto quindi se anche gli altri prendono questa decisione non so se lia può farlo ma se anche gli altri lo fanno tecnicamente ok 250 adesso purtroppo non non mi fido a costruire per ora a ife anche se non sarebbe probabilmente male la butto eh adesso però ti mancano i soldi puttana io appena posso costruire questa gathering hall per avere un pochino più di prestigio e controllo nella zona che vita infame che vita infame quella di chi non fa né i soldi voglio raidare ma ho provato qua intorno sono già stati tutti raidati dobbiamo collegarci un po' fida che ci serve o di avere più soldi di questi che in verità ora ce li abbiamo e potrei anche partire tra l'altro lui cosa sa che sta facendo lui ha dichiarato guerra là sotto quindi io ragazzi parto per dargli una raidata nel muso al tizio qua sembra cosa buona e giusta in verità ragazzi non so se farvi vedere queste piccole guerre sia qualcosa di interessante o meno però magari vi fa capire un attimino come mai mi sto espandendo a parte per attaccare il papa a caso eccetera eccetera e le situe allora c'è appena stata quella guerra fra loro due e io ho raidato le due città di sto tizio qui sopra nel farlo ho anche dato una mano all'esercito di quest'altro qua sotto che quindi è riuscito a vincere e a guadagnarsi a inglobarsi quella parte qua e ora il bilanciamento di forze è totalmente cambiato se prima c'era il chief di Oyo che comandava adesso quest'altro qua di Ibdan che ha più truppe eccetera eccetera è un buon momento secondo me visto per come è messo per entrare e inchiappettarsi Oyo questo perché ha tre costruzioni che sono abbastanza sono quelle prestigio soldi truppe e splittiamo un attimino il regno lo isoliamo c'è il rischio che questo qua poi si prenda Igana però adesso sono in trousse però io poi posso mangiarmi il Lorin lì sopra quindi questa è un attimino la situazione e quello che andremo probabilmente a fare adesso non credo di potergli prendere il dacino no allora andiamo per Oyo splittiamo in due declare war non ha truppe è il momento adatto per muoversi a guerra ed è in prigione tra l'altro questo qua è lontano da casa se ti dico questo prendo lo stress perché sono callous quindi io direi che però è un bravo guerriero come siamo messi a guerrieri dai vediamo se 20 stress valgono la situa abbiamo dei guerrieri che fanno veramente cagare devo essere sincero questi qua con zero non so altri che sono buoni ovviamente alcuni mi fanno cagare questo uomo qua dai 20 strength va bene accetta la nostra religione e vieni a combattere fratello adesso loro ovviamente ci passeranno da dietro per tentare di fare esattamente la stessa roba che stiamo facendo noi non so neanche se la scegliela a fare oppure no vediamo siamo abbastanza lenti là sopra intanto cos'è cos'è mio figlio o no cos'è mio fratello mi prendo we cook da mio fratellino che poi dovrò ammazzarlo non so vediamo un attimino la velocità di assedio delle situa perché se arriviamo a metà abbastanza velocemente adesso metà velocità 5 perché è solo una questione di attendere e il tizio la mia spia è stato svegliato a 50 quindi possiamo abbandonare il plot vediamo se riusciamo ma siamo messi più o meno abbastanza bene con con tutti i nostri vassalli che poi i due sono i miei fratelli spero diventeranno a fin fine non ho neanche più desiderio in verità di ucciderli questi fratelli qua come mai ci dai che hater quality vediamo our champion dimmi che era uno sfigato no era quello era quello che avevo appena preso no era un altro però ero 62 n aaa che ho catturato no mio spy master lasciamolo lasciamolo poverino perché lo torturo perché che ho appena ho appena alzato la cosa su di lui puttana eva avevo appena alzato la l'opinione a 50 ne ho già perso così al volo ad altri 20 comunque vedo che what no amico non riprendi niente ecco qua buono abbiamo conquistato quello quant'altro gg enforce demands a posto e expansion boys ora abbiamo un po' troppo in effetti mi toccherebbe dar via qualcosa vorrei dare via oh piuttosto e sono stato un po' un cazzone ma vediamo se riesco a mettere mia moglie ecco lei lei mi odia ok tecnicamente con manage domain manco con un più 6 riusciamo ad arrivare ad un 4 fide che vita che vita di stenti che vita di stenti che faccio Gnari vita di stenti niente comunque la conquista è stata fatta adesso cerco di capire un attimino come come organizzarmi potrei dar via if darlo al papa guadagnare mille di pietà sarebbe un boato per farne poi che roba ci sono due festività che si possono fare no celebrate new yam here e oloyo festival mi pare di capire qua che dice che questo qua è importante per tutti gli yoruba e questo invece è importante per gli edo noi siamo gli edo gli yoruba sono quegli altri che erano qui vicino noi che pian piano sto conquistando qua c'entra dentro anche il papa l'oni mentre qui no io però 100 non ce li spendo per fare tutti e due quindi facciamo che sto giro tanto poi per 10 anni non si può più fare quindi quest'anno facciamo il new yam festival per centinaia d'anni gli yams penso siano patate tipi di patate una roba del genere sono state una risorsa importante di cibo per gli edo e per le altre tribù dell'africa dell'ovest con il raccolto di queste patate sempre se non ricordo male che è vicino devo preparare il festival della patata il festival della patata grande proporzione e si prepariamo questo festival della patata subitissimo tra l'altro non so se avete notato il bellissimo vestito mi piace molto e la maschera molto bella anche così evito anche di avergli trovare una capigliatura solo vedere la mia faccia di merda allo specchio se vogliamo mantenere la cosa storica comunque scegliere una data il nuovo yam festival non so perché faccio fatica a pronunciarlo new yam festival è vicino quando celebreremo questo raccolto di patate una delle cose più importanti è una delle cose più importanti che c'è per la gente edo prima della preparazione del festival dobbiamo decidere una data di buon auspicio di quando fare questa roba qua questa decisione non può essere presa alla leggera tipo facciamola domani no la domanda è devo prendermi la responsabilità di consultarmi con l'orisa o orisa penso penso cos'è la saggia del villaggio l'orisa tutte cose come capo del benin è mia cosa la mia testa guarda gli dice renew quindi c'è il sito oppure posso andare 30 pietà se chiedo agli sciamani oppure 30 prestigio every quarter che è più vecchio mi dà anche questo il 10 renew non è mica male quanto manca la prossima che cavolo era qua house of benin ancora benin benin lontanin da quella cosa qua e 10 non è proprio è una scorreggia nel vento io vado full prestigio 30 prestigio non è tanto per 50 monete ma tant'è quindi non mi ricordo neanche il scelto fatto comunque la data è stata decisa dopo un'attenta deliberazione la data è stata scelta fino a quel momento faremo tutto quello che possiamo per prepararci per questa occasione che include anche rituali di purificazione e cerimonie e altre pratiche insomma pratiche su pratiche alla burocrazia delle cerimonie più importante più importante di tutto dobbiamo tutti aderire alla legge che nessuno nemmeno io che sono il comandante lui ayapada può mangiare le nuove yams fino all'arrivo del festival un po' di digiuno prima della situa you start new yam festival in ife fa qualcosa quella cosa qua oh guardate c'è l'eventino qua sotto però non è cliccabile non pensavo che questo comprendesse dei sacrifici allora in alcune regioni che celebra il new yam festival è un buon costume sacrificare i criminali ma cosa ha fatto sta donna ma io che ne so va bene andiamo criminali devono essere sacrificati questo perché ammazzare questi individui è visto come parte importante del rituale di purificazione della comunità ah beh in effetti sotto quel punto di vista lo capisco tradizioni differenti non giudichiamo e non mi voglio neanche sbilanciare dire una cosa che penso la pena di morto però andiamo avanti quest'anno alcuni degli sciamani hanno detto che credono che la persona più giusta da seccare sia aderinola giusto per prima l'ho guardata ma cosa ha fatto sta donna qua non lo sappiamo ah mi costa pure 25 però se lo faccio mi da questo buff oh interessante popolare opinion tasse ha ammazzato la tizia che la stronza va bene va bene ok ok se faccio questa invece spendo coso ma lei tutti gli amici di amanti non mi interessa very well addio areniola è stato molto bello conoscerti ah andiamo al secondo anche io sono come il tizio lì tutto bello vediamo cosa succede il festival inizia oggi bene il primo gruppo il primo raccolto chiamiamolo così il primo raccolto di patate che è stato ben raccolto viene offerto ritualmente agli orisi orisa in una grande cerimonia e svariati animali sono anche sacrificati perché oltre alle persone anche gli animali per condicio possiamo mangiare ora le nuove patate appena abbiamo finito la cerimonia comunità differenti nella regione hanno tradizioni differenti riguardo a chi può mangiare prima ste patate alcuni lasciano che siano i regnanti altri gli sciamani ad avere l'onore e altri invece i membri più bassi della società una volta che la patata è mangiata il festival può iniziare allora chi lo mangia per prima se lo mangio io prestigio pietà e tutti sono contenti se lo mangia il clero prestigio pietà e tutti i 0.10 di prestigio a me interessa solo quello alla fine dei conti 0.20 se invece lo mangiano gli stronzi del paese 0.30 prima lo devono mangiare i poveracci secondo me quell'altra cosa che mi dava oltre a quello bassa l'opinione si si lo diamo i poveracci abbiamo i poveracci prima di tutto gente che ha bisogno chiaramente non per un ritorno mio personale in alcuni posti è costume distribuire erbe magiche all'inizio del new yam festival seguiti a seguito dei sacrifici agli orisa i riti e tutti quanti e tutti quanti sono vissuta bene hanno fatto la pacchia i miei messaggeri e rappresentativi sono stati mandati attraverso il regno a informare tutti quanti che il yam festival è finito e a mia speranza che gli altri villaggi e clan nella regione condividano la nostra gioia nella speranza che è ora insomma del raccolto adesso che l'eccitamento il festival sta andando a scemare tutti quanti nella comunità ritornano alle loro vite normali forse il prossimo anno sarà divertente tanto quello mi piace perché dice perhaps next year ah beh prossimi anni ok perché prossimo anno direi no visto che è ogni 10 ogni county you own a 30% ah ogni conti ha un 30% di spawnare questo if andiamo a vedere uno è morto almeno si è vissuto il cazzo di festival dello yam allora questo if non se l'è beccato perfetto qua sopra pure merda qua sopra fa cagare merda merda si qua uno uno di tutti i miei possedimenti uno si è preso il cazzo di buff ovviamente neanche un mio parente ma un mio vassallo stupendo ragazzi stupendo chi c'è morto lo steward eccolo col cancro in effetti non è che potete tirare più di tanto benvenuto al nuovo ragazzo nana nana emuingare vabbè vabbè dai non stiamo qua a romperci troppo i coglioni sui nomi signori un saluto e alla prossima puntata che c'è